Il pane non bastava mai e il panettiere faceva orari impossibili. Sua moglie, tutta colpa della sua bruschetteria, non me lo perdonò. La invitai ad assaggiare le mie ragioni. Cuori di carciofo, peperoni e fantasia di pomodorini. Si incantò ad assaporare la bruschetteria fino a un orario impossibile. Il marito non me lo perdonò. Bruschetteria Bertolli, non si vive di solo pane.